Abrogare la norma sulla riperimetrazione della riserva del Borsacchio e completare l'esame delle osservazioni del PAN. E' la proposta che verrà discussa nel Consiglio Comunale Straordinario, convocato per venerdì alle ore 18 a Roseto. A deciderlo ieri mattina è stata la conferenza dei capigruppo allargata ai consiglieri. Si tratterà di una seduta aperta ad associazioni e cittadini, alla quale saranno invitati anche il presidente della regione Marco Marsilio e consiglieri regionali di maggioranza e opposizione. Oltre al presidente della provincia Camillo D'Angelo, ai consiglieri provinciali e ai parlamentari eletti in Abruzzo e quindi anche la premier, Giorgia Meloni. Abbiamo stabilito questo consiglio straordinario che mi auguro troverà unità da parte di tutta la politica rosetana. L'obiettivo è quello di rimediare a quella che è stata un'azione, a questo nostro avviso, scelerata da Regione Abruzzo che con un emendamento notturno ha espunto oltre il 98% della riserva del Borsacchio. Con un'azione che sia nel merito che nella sostanza, che nella forma appunto, noi riteniamo scorretta. A questo punto credo che sia importante rimettere, ripercorrere la storia e questo faremo nella delibera che andremo a proporre. Alla discussione di un consiglio aperto che sarà appunto alla presenza di tutti i consiglieri, ma anche degli interessati di livello regionale, parlamentari e tutti coloro che vorranno intervenire in associazioni di voti ambientaliste e non, perché noi penso che l'ambiente sia un affare di tutti. Nella delibera si chiederà alla presidente del Consiglio dei Ministri di impugnare la norma approvata alle 2.30 del Consiglio regionale davanti alla Corte Costituzionale. Il governo ha sicuramente questa competenza e questa facoltà di ritenere l'incostituzionalità di una norma, tra l'altro illegittima a nostro avviso, detta anche da alcuni esperti costituzionalisti. Questo potrebbe essere un'azione che ripristini quello che sia la correttezza. Dopodiché voglio anche però tranquillizzare coloro che invece insistono in quell'area, perché qui si è fatta confusione, c'è qualcuno che butta fumo negli occhi. A livello di approvazione di PAN, cosa per cui siamo già pronti, il PAN permetterà a coloro che vivono in quell'area di espletare tutte le azioni necessarie per un'attività agricola di qualità, ma anche attività turistico-ricettive, nei limiti di quelle che sono appunto gli ambiti di un'area ambientalista e ambientale, che però credo possa essere un'eccellenza non solo per Roseto, ma per tutta la costa Terramana. Intanto, dopo il conteggio finale, le firme raccolte dalle associazioni ambientaliste contro il taglio della riserva in due giorni sono arrivate a quota 3.500. In più è stato organizzato, prima del Consiglio Comunale straordinario, una mobilitazione sotto al municipio con annesso flash mob.